La Turris esce sconfitta dalla trasferta proibitiva allo stadio Ceravolo contro la capolista Catanzaro che così continua la sua corsa verso la promozione in Serie B. Gli uomini di Fontana subiscono subito il pressing dei Giallo Rossi che passano in vantaggio dopo appena sei minuti con il greco Sonas che insacca dopo una doppia respinta di Fasolino che nell'occasione ha sostituito Perina ma che nulla ha potuto sull'ultimo tiro. Padroni di casa ancora pericolosi con Verna ma Fasolino stavolta devia in angolo. Risponde la Turris con Franco ma la sua conclusione termina a lato. Nella ripresa ancora il Catanzaro in avanti ci prova prima Ghion poi Van de Putte che si vede allontanare il pallone da Miceli proprio sulla linea di porta. A metà secondo tempo la migliore occasione per i Corallini con Leonetti che da posizione ravvicinata spara alto. Alla mezz'ora rosso a Ghion che lascia i suoi in dieci con la Turris che può approfittare ma il Catanzaro regge fino alla fine consolidando così il suo primato. Per la Turris il secondo cappa di file classifica sempre più preoccupante ma l'occasione è già domenica prossima di rischattarsi nello scontro diretto col Monterosi.